Allora, buongiorno a tutti, già mi viene da ridere mamma, allora è venuta una persona da me ora, mi dice, Bobo ci siamo conosciuti 28 anni fa, e la madonna, 28 anni fa, sì perché lavorava con Borsano, un vecchio presidente del Torino, io ho 16 anni, 16, 26, 32 anni fa, che memoria, che storia, buongiorno a tutti, ho anche la maschera storta, allora oggi c'è l'Instagram Bobo TV Show Live, sai che c'è la maschera storta, può essere, eccoci arrivati, c'è la neve, c'è la neve qua, c'è il sole, va fischiato dal freddo, tra 20 minuti si comincia, un occhiale arancione, Alberto mi dici dove sei, puoi venire a insegnarmi, come si scia, mi aiuti tu, aspetto eh, aspetto un messaggio da te.